No, voi siete supposti di sedervi lì e ve lo mettete addosso per asciugarvi un po' meglio. Ma stai facendo? Sì. Ma non è un mio figlio. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché il contrario? Ma perché? Eh, stai? Ahi... Stai? Guai da... Ma per se? Ben? Guai da? No, na, ma è puro! Nonostante! Não, una, ma è buro! Nonostante! Nonostante! Grazie a tutti.